Scusa, anche con tutti i miei elementari che guardano, posso? Sì, serve, due burger, accendio di vino bianco, accendini, uomiferi e due lumini consistenti. Allora, cominciamo ad accendere il vino. Vedo, senza lasciarci, e vediamo che la candela, il cuore, la fiamma, non si spingerebbe. Poi aggiungiamo il vino all'interno del burger, e non si spingerebbe. Allora, proviamo con l'aceto di vino bianco. Allora, mettiamo un po' di aceto in un burger, posizioniamo qui in un vino, notiamo che... Ora, qualcuno vuole provare, proviamo a metterlo insieme. Cosa succede? Chi vuole provare? Mi fa me la bollicina. Scusa. Scusa. Cosa sta succedendo? Mi si sta, vediamo, ad idride carbonica. Scusa. Mettiamo un'aceto, l'aceto è acido, il fondato è solo il basico. Mettiamo il vino all'interno del burger, la perca la reazione, e si spingere. Perché questo si spingerebbe? Perché la candela non può bruciare l'ossigeno, perché c'è la nitride carbonica. Bravissimo. Ora, delicatamente, facciamo il burger, e senza prevasare il liquido, proviamo a prevasare con l'anidride carbonica. Contattivamente. 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prevettiamo che non sempre viene bene. Prendiamo il vino all'interno del burger, perché all'inizio si spingerebbe, vediamo che inizia. Proviamo invece il burger dove prima era il burger, e vediamo che si spingere, perché appunto in questo back, la ciana è l'unica armonica, che si è travasata quando abbiamo fatto questo buono. Quindi è l'unica armonica. Quindi la ciana viene l'unica armonica, e poi si spingerebbe l'aria, e quindi fa un momento scendere.